Abbiamo intervistato Wang Shi, il presidente di China Bank, società che sarà protagonista di Expo 2015 con un proprio padiglione presente in Expo, il primo padiglione peraltro che è stato finito prima di Expo e l'annuncio è stato fatto proprio agli inizi di questa settimana. Quindi una società in cui fatturato si aggira intorno ai 32 miliardi di dollari, pensate parliamo davvero di un conglomerato ed è il primo gruppo immobiliare in Cina. Wang Shi è il suo presidente, un personaggio davvero molto particolare che ha avuto una storia inizialmente travagliata e che poi si è affermato come uno dei miliardari più importanti in Cina in questo momento. L'abbiamo incontrato a Milano, sentite cosa ha risposto alle nostre domande e soprattutto alla possibilità di vedere sempre più China Bank in Italia in futuro, anche dopo Expo. Il fatturato del 2014 di China Bank è di 32 miliardi di dollari, più di quello dei quattro principali colossi americani combinate insieme. Lei è il maggior costruttore immobiliare del mondo. Ci dica come è possibile crescere in un settore come quello immobiliare cinese che ora sta subendo in Cina un rallentamento. Il motivo per cui Wang Shi è riuscito a diventare il più grande costruttore del mondo è la vastità del mercato residenziale cinese che rappresenta il 40% di quello totale. Noi siamo i numeri uno, ma in realtà i primi posti del ranking mondiale sono occupati da compagnie cinesi, proprio perché il nostro è un mercato enorme. Ora che il settore non è in ottima salute, continuare a crescere alla stessa velocità non è possibile. Infatti tutte le compagnie immobiliari come la mia hanno già rallentato. Il vero problema per il futuro è che questo rallentamento continuerà e probabilmente interesserà anche l'economia. Quindi, sul lungo termine, bisogna trovare un modo di crescere anche all'interno di un contesto simile, passando da un modello concentrato sulla velocità a uno che dia la priorità alla qualità. Questo significa puntare anche ad altri mercati, come quello europeo, insomma a mercati sviluppati interessati a prodotti di alta qualità. Il problema dunque non è tanto il rallentamento della crescita, quanto il modo in cui le società cinesi riusciranno a cambiare i loro prodotti, passando da una qualità medio-bassa a una molto alta e aumentando quindi il loro valore. Ciò ovviamente riguarda anche la Banki. Quindi la sua società sta facendo questo? Sì, e per questo prenderemo parte all'Expo di Milano, che permetterà a Banki di essere conosciuta e compresa da sempre più persone. Così potranno capire la filosofia di una compagna cinese come la nostra. Così facendo ci avvicineremo al mercato europeo, a cui proporremo prodotti di alta qualità. A causa del rallentamento e dei nuovi obiettivi governativi che puntano ad una crescita più moderata, la Banki sta prendendo in considerazione altri mercati al fine di controbilanciare il rallentamento in Cina. Parlo soprattutto di sud-est asiatico. Molte società stanno sicuramente cercando di internazionalizzarsi al fine di controbilanciare, come ha detto lei, il rallentamento attuale in Cina. Si tratta sicuramente di un'opzione valida che va considerata. Ok, parliamo dell'Italia adesso. Lei si trova bene qui? Assolutamente sì. Ho visitato questo paese molte volte, specie in estate, dove ho trascorso diverso tempo in località di mare, tra cui soprattutto la Sicilia, che è una regione che amo molto e che per le persone che risiedono all'estero è famosa soprattutto, per colpa di Hollywood, per la mafia, che peraltro è un'organizzazione che opera in tutto il mondo, non solo in Sicilia o in Italia. La Sicilia in realtà è un posto splendido e ricco di pace, perfetto per i turisti. Per i cinesi l'Italia è il paese numero uno per la cultura e la storia, che si trova dappertutto, non solo nella splendida Roma. Tre mesi fa ho visitato Bologna e l'ho trovata davvero interessante. Perché? Bisogna ricordare che i cinesi oggi pensano molto all'istruzione dei figli e delle nuove generazioni e quindi sono interessati a località universitarie, come ad esempio Bologna, il cui Ateneo è molto conosciuto in Cina in quanto il più antico del mondo. L'Italia è la dimostrazione dell'influenza dell'antica Roma e il suo valore culturale ci sta molto a cuore. Oltre a questo è conosciuta in Cina, ovviamente, come metà prettamente turistica e infine è una destinazione ghiotta per il futuro dei nostri imprenditori. Dove si colloca l'Italia nella sua strategia? Nel passaggio di Vanchi, dalla quantità alla qualità, il design italiano gioca sicuramente un ruolo importante, come peraltro accade in tutto il mondo, sia in termini di arredamento che di moda. Ora che puntiamo all'innovazione, dobbiamo capire come sviluppare nuove idee di design e credo che in generale le compagnie cinesi possano imparare molto da quelle italiane ed è per questo che è importante visitare città come Milano. Durante Expo, China Vank godrà di una forte esposizione mediatica, dato che sarà uno dei principali protagonisti di questa edizione. Alla fine di Expo, quindi da ottobre in poi, che cosa si aspetta da China Vank e dal suo ruolo in Italia? Quali sono i suoi obiettivi? Credo che durante l'Expo Milano sarà teatro di diversi accordi da parte della Vanchi e mi aspetto che dopo dicembre questo non valga solo per il capoluogo Lombardo, ma anche per altre città italiane come ad esempio Torino, Roma e Venezia. Credo inoltre che l'Expo ci esporrà favorevolmente al mercato europeo e che dopo dicembre raccoglieremo i frutti della manifestazione. Questo comporterà un accesso al vecchio continente, anche da parte di altre compagnie cinesi, che troveranno nuove opportunità di business in Italia ed Europa. Allo stesso tempo, le compagnie locali europee avranno la possibilità di fare affari in Cina. La sede principale della Vanchi è a Shenzhen, che è una città molto viva e attiva dal punto di vista affaristico, che negli ultimi 35 anni è cresciuta fino a superare i 7 milioni di abitanti. Conseguentemente anche l'economia della città è cresciuta e quindi rappresenta un'ottima opportunità di business per gli italiani, anche perché dal 2007 è gemellata con Torino. La Vanchi ha inoltre i suoi uffici in altre 60 località cinesi, pronta ad accogliere delegazioni straniere per rafforzare i rapporti con l'estero. Mi aspetto dunque nuove opportunità di business dall'Expo. Vanchi vuole diventare il punto d'accesso in Europa dunque per le società cinesi, un ruolo davvero importante. Crede che la sua compagnia potrà stringere accordi con aziende di design italiane o di tecnologia? Anche queste rappresentano, secondo lei, delle opportunità all'interno dei vari settori che coprite? Certamente, la mia compagnia dispone di un centro di ricerca e sviluppo molto grande che avrà quindi bisogno del contributo di compagnie di design italiane interessate a lavorare in Cina e spero che collaboreremo presto. L'anno scorso ho avuto la fortuna di essere invitato a visitare lo studio di un importante designer e sono rimasto senza parole. La Vanchi ha bisogno della qualità italiana anche per implementare l'influenza del proprio marchio, cosa che vale allo stesso modo per le altre società cinesi del settore. Siamo tutti interessati a portare il design italiano in Cina e le opportunità non mancano. Grazie per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a voi. E proseguiamo con il nostro spazio imparare la Cina. Lo facciamo come di consueto con il nostro Angelo Hou che è tornato a trovarci. Benvenuto Angelo, grazie per essere qui. Buongiorno Mariangela. E dunque iniziamo subito con i caratteri di oggi. Oggi giornata interessante perché spaziamo nell'universo, parliamo dei pianeti che hanno una caratteristica di essere definiti come delle stelle. E quindi hanno come comune denominatore Shin, la stella. Vediamoli. Il primo a sinistra vediamo TNT, l'universo dove noi entriamo. La stella è questa. Shin, la stella. Ciascun pianeta è abbinato a uno di quelli che sono i segni, i simboli della vita. Che sono l'oro, che sono il legno, che sono l'acqua, che sono il fuoco e sono la terra. Vediamoli nell'ordine. Venere, naturalmente, insieme al simbolo di stella Shin, ha associato il simbolo dell'oro. Perché? Perché Venere sia al mattino che alla sera è così brillante che assume i colori dell'oro. e quindi Venere è definita come oro più stella. Shin, Shin. Mentre invece Giove, che è piuttosto pacioso, è ligno, anche se è gassoso, però ha una colorazione linea. Evidentemente è abbinato al simbolo di legno, di pianta. E quindi Mu, Shin. Mercurio non poteva che essere abbinato al simbolo dell'acqua per identificare un pianeta semisolido, quasi liquido. E quindi la stella liquida. Ancora, Marte, che noi vediamo rosso, focoso, è naturalmente abbinato al singolo di fuoco, Huo, Huo, Shin. Ultimo, ma non meno importante, è Saturno. Saturno che è proprio ben localizzato con il segno di Terra, Mariangela. Bene, Angelo, davvero interessante la puntata di oggi. Andiamo dunque insieme a riassumere i caratteri che abbiamo appena visto, partendo proprio dal minimo comun denominatore di tutti, ovvero la stella. La stella la vedete disegnata, grazie proprio alla nostra Carmen Sun. Vedete anche addirittura il modo in cui si dipingono i caratteri cinesi, in modo molto peculiare e molto particolare. E questo appunto è Sing, stella. Abbiamo poi visto i differenti caratteri che, raggruppati appunto a stella, vanno a formare i differenti pianeti. Iniziamo proprio con Oro. Lo state vedendo in questo momento il carattere Oro, che è appunto il carattere Zin, che unito a stella va a formare Venere. Proseguiamo con Giove, il carattere in questo caso è Mu, unito a stella appunto crea il pianeta Giove. Che cosa significa Mu? Significa proprio legno. Andiamo avanti con Mercurio, il carattere in questo caso è Shuei. Shuei vuol dire appunto acqua. Andando a unire Shuei a stella, il carattere diventa appunto Mercurio. Proseguiamo con Huo, che significa fuoco. Questo lo vedete scritto, il carattere Huo, per caratterizzare proprio la focosità di un pianeta importante, che è quello di Marte. Insieme a Sing, infatti va a creare Marte. E poi Saturno, in questo caso invece l'elemento caratterizzante, che vedete scrivere dalla nostra Carmen, è Terra. Terra che si scrive appunto in questo modo, che state vedendo, e si pronuncia Tu, e che andando ad unire a Sing diventa Saturno. E direi che è tutto quindi anche per oggi, io ringrazio Angelo Ho per essere stato qui, grazie mille Angelo. Grazie a voi Maria Angela, arrivederci. Zaijian, e ci vediamo noi tra poco invece per andare a vedere insieme il servizio di C&C. Grazie a tutti.